Anticipazione una vita, domenica 6 settembre 2020. Rosina viene a conoscenza della proposta commerciale di Ramon e scopre che Liberto sta cercando finanziamenti per investire. Ignacio invita la Rubio ad uscire. Ursula spinge Mars a passare delle informazioni top secret ad Alfredo. La cameriera ruba a Felipe alcuni documenti importanti sul processo Liberto. Felicia e Bellita stringono un patto per distruggere la serenità ritrovata dei loro rispettivi figli ed escogitano quindi un piano per sabotare l'appuntamento dei due innamorati. Alfredo che non si fida più di Enoveva rivela a Lolita che sua moglie è complice della truffa legata al banco americano. La donna indignata schiaffeggia la signora Bryce in mezzo alla strada. Rosina rifiuta una bellissima proposta di Ignacio. Liberto devastato scopre che Enoveva gli attesa una trappola per separarlo per sempre dalla moglie. Cesario nota un ragazzo sospetto a girarsi per le vie del quartiere. Costui tenta addirittura di intrufolarsi nel ristorante il nuovo siglo ventesimo. Per strada lo affronta e il ladro gli sfugge. Sinta ed Emilio non riescono a vedersi. Bellita e Felicia festeggiano il loro trionfo. Lolita smaschera Enoveva in presenza dei vicini di Acasias. Dice a chiare lettere che è complice di Alfredo nella truffa legato al banco americano. La signora Bryce promette a Felipe che aiuterà Liberto durante il processo. Non lo farà condannare e tutto nelle sue mani. Alla fine il legale decide di farsi accompagnare dalla Salmeron a ricevimento presso l'ambasciata. Marzia quando lo scopre vi resta molto male. Grazie a tutti.